salve traders come va qua un'altra volta con voi eric munozzi il lion bull academy andiamo a fare l'analisi di ship in uto che ci va in uto che in ship che da un paio giorni non lo faccio perché stavo aspettando un po che si muovesse il mercato per sapere più o meno cosa sta succedendo e cosa fare seguente andiamo velocemente a vederlo oggi sto utilizzando il tablet per registrare e utilizziamo la piattaforma di itoro che anche lui è cambiato poi faremo un video spiegando i nuovi cambi che ha avuto è più bellino in alcuni aspetti però per altri la verità poteva essere ancora migliorato però vabbè non tutto può essere perfetto andiamo a vedere ship che cosa sta succedendo e cosa possiamo aspettarci questo è il grafico che ciò già è da un po che lo lo seguo va bene è già da un po che lo seguo e volevo un po far vedere che sta succedendo qua dai andiamo a vedere faccio una schermata e lo spieghiamo allora come potete vedere il prezzo dopo aver fatto quella salita che conosciamo tutti arrivando a più o meno gli 87 adesso aveva fatto una correzione sembrava che risaliva e adesso come potete vedere il prezzo ha rotto il livello di Fibonacci di 38 che era più o meno la zona di 60 più o meno era il nostro supporto era la zona di 60 l'ha rotto e ha fatto nuovamente adesso sta facendo supporto nella zona di 50 di Fibonacci che sarebbe intorno ai 48 45 va bene quello sarebbe il prezzo che sta sembra che sta facendo per adesso supporto allora non è niente di cui preoccuparsi è normale che il prezzo dopo una salita così tremenda faccia correzioni il prezzo ancora ancora viene considerato al rialzo anche finché tocchiamo anche se toccheremo il 61,8 ancora viene considerato al rialzo soltanto se dopo cominciamo a rompere il 61,8 e allora già potremmo dire che la tendenza sta cambiando però per adesso la tendenza è cambiata però per adesso siamo ancora rialzo cosa possiamo aspettare qua nella zona di 50 potremmo aspettare adesso un rimbalzo già e così la tendenza al rialzo per prenderci quelli 87 e così andare ai 100 quello potrebbe essere una l'altra è che restiamo il laterale in questa zona per un po' fra i 50 52 e i 45 più o meno possiamo dire che restiamo più o meno in quella zona un'altra è che rompiamo la zona di 50 e ce ne andiamo a toccare il 61 che sarebbe al di sotto dei 40 e intorno ai 38 allora cosa facciamo in questa situazione andiamo a cancellare tutto questo che non si capisce niente cosa facciamo in questa situazione ce ne ha un po' in questa situazione la migliore cosa è finché siamo nella zona dei 49 ai 45 è zona di accumulazione dove potremmo comprare va bene con una buona zona di ricompra allora se il prezzo ricada ai 61 ci abbiamo ancora siamo ancora più in saldi ancora cosa di meno è un'altra zona nella zona di 38 anche di ricompre se crediamo nel progetto e pensiamo alla lunga andrà all'insù va bene allora io su questa zona appena posso ricomprerò e nella zona di 61 se arriviamo lì ricomprerò sempre per trovare attaccare gli 87 e poi 100 anche se io non ho intenzione di chiudere sono holder per lungo termine detto questo se il prezzo cale al di sotto e ce ne andiamo alla zona di 20 io ricomprerò anche lì solo per farvi un po capire cosa aspetto da questo progetto nel lungo termine perché è caduto così ci sono varie situazioni una perché la salita era molto forte ed è normale c'è gente che ha fatto i soldi e comincia a chiudere è normale anche se non sono la maggior parte siamo holder per lungo termine però a testo così altro che è successo che ha aiutato la caduta gente che ha comprato qua sopra ha visto sta caduta si è spaventato e sta cominciando a uscire con perdita di soldi per un'altra cosa un'altra cosa coin market cap ha cambiato il il supply che avevamo che dicevano che avevamo 392 trilioni se non mi sbaglio adesso dicono che ci abbiamo 549 trilioni allora questo cambio che hanno fatto loro a molta gente ha pensato che avevano creato più monete che non è possibile farlo in cip però molte pensavano quello e anche fatto entrare in panico sembra tutto studiato apposta per mandare giù il prezzo la verità poi kraken un exchange che aveva detto che andrebbe a listare subito ship al seguente giorno se aveva un sacco di like ha avuto molti più like di quelli che pensavano e non non ha messo ship ha detto che la metterà in lista di evaluazione perciò anche lui ci ha deluso e ha fatto cadere anche lui il prezzo perché la gente già comincia a sentirsi loro vogliono soltanto che salga 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 si sentono male sembra nella verità tutto studiato quello poi abbiamo rovinghub che ancora non la lista dopo tutte le notizie che ci sono indietro questo anche sta ha fatto un po scendere il prezzo perché si sgonfiano un po a parlare del chip si scompia tutto e sicuramente robicon c'è la suo modo operandi e sicuramente sarà che starà aspettando sicuramente un prezzo più basso per comprare e cominciare a vendere perché vi dico quando ci sono soldi da fare tutti quanti sono messi nello stesso però sembra tutto studiato per far scendere il prezzo allora adesso dopo che abbiamo visto un po notizie che sono male notizie buone nel 2022 esce shibarium escono i giochi tantissime tantissime cose nuove della questa di questo scritto moneta che sicuramente aiuterà a salire il prezzo cosa aspettiamo nel 2022 cosa io aspetto la verità nel 2000 2022 dc 2022 ship in realtà penso che arriveremo a 0,000 e 225 probabilmente questo è quello che io vedo 2023 sicuramente ci mangeremo un altro 0 sarebbe 0,00 e l'altro 0 diciamo che arriveremo a questo prezzo qua 2024 saremo fra quello e il 0,000 8 più o meno quello per farvi un'idea nel 2024 fine del 2024 potremmo arrivare al nostro ansiato centesimo sempre quando shibarium il shibarium bruci più monete sempre quando ci sono più bruciature sempre quando i shiboshis e i giochi dei shiboshi bruciano di più ogni volta che escono shiboshi ci bruciano più monete allora se riusciamo a fare tutto quello allora è quando sicuramente arriveremo a quel acclamato centesimo dove ci faremo un po di soldini spero di prima di arrivare a queste situazioni qua riusciamo almeno avere 100 milioni di ship se arriviamo ai 100 milioni ship a un centesimo è già un milione di dollari di dollari perciò sarebbe perfetto va bene andiamo a chiudere questo allora già sapete più o meno la zona di supporto quale per adesso zona di accumulazioni al zona del 50 per cento dei fibonacci ce l'avete qua nello schermo zona di accumulazione ancora il 61,8 per cento dei fibonacci che sarebbe attorno i 38 andiamo adesso a vedere shiburn quanto andiamo a shiburn quanto ci abbiamo bruciato ci abbiamo adesso 410 trilioni 296 bilioni 983 milioni 527 mila 063 shiba bruciati siamo vicini vicini a bruciare un altro bilione perciò stiamo andando abbastanza bene vediamo alla fine di novembre quanto abbiamo andiamo a fare lo schermato giusto oggi che siamo al giorno 5 facciamo la schermata ce la salviamo per vederlo a fine novembre quanti abbiamo bruciati poi un'altra cosa da dire che sono molto contento i holder sono ancora aumentati siamo a 912 mila 131 holders siamo quasi al milioni di holders di shiba inu milioni di holder perciò bellissimo e ci abbiamo bruciato il 41,0 25 per cento la seconda il secondo vuole più grande è quella di cristo.com è un exchange perciò è normale che siamo conti molto grandi che sono quelli che danno per vendere alle altre ai piccoli come noi poi ci abbiamo shiba inu x ship token che se non mi sbaglio è il shiba swap non sono sicuro la verità devo ancora informarmi però si può dire che stanno crescendo anche il numero di holder e le balene anche stanno aumentando dai spero abbiate capito i punti interessanti avete avuto una idea di cosa penso io del prezzo ricordate non sono un analista finanziario soltanto sto facendo le mie proprie informazioni le mie proprie ricerche poi ognuno può fare quello che gli pare dai grazie per aver visto il video ci vediamo alla prossima ciao ragazzi